Una malattia rara si chiama MCS. Che cos'è? Che cosa significa? Allora, MCS è l'acronimo di sensibilità chimica multipla. Vuol dire che si è sensibili ad alimenti, farmaci, detersivi, profumi, tutto ciò che può chiaramente essere chimico, ecco, fondamentalmente. E quindi comporta tutta una serie di privazioni. Quindi vuol dire vivere una vita lontana dalla società, vuol dire riservarsi, cioè preservarsi da determinate situazioni. Che cosa avviene nel momento in cui lei è in contatto con queste sostanze chimiche nocive, altamente nocive per lei? Cosa avviene? Allora, la reazione può andare da un semplice mal di testa, nausea, giramenti, vertigini, perdita della forza muscolare, sino allo shock anafilattico. Perché dipende poi dalla sostanza con cui si viene a contatto, se quella sostanza ti dà problemi o meno. La cosa principale che chiedo per me, ma soprattutto per tutte le persone che sono nelle mie stesse condizioni, e sono tantissime, chiedo il riconoscimento innanzitutto della patologia. Perché è vero che è riconosciuta in solo tre regioni. Nella quarta è riconosciuta solo sulla carta. Ed è assurdo che sia, mi dicono che è una cosa a discrezione regionale, però non è possibile che un malato di MCS della Puglia sia diverso da quello del Veneto o del Lazio. Siamo tutti uguali. Com'è possibile risolvere casi come quello di questa ragazza, che purtroppo è affetta da questa malattia? Dobbiamo sollecitare il Ministero della Sanità, l'Istituto Superiore di Sanità, perché finalmente ricomprendano, validando i percorsi scientifici e di ricerca, e terapeutici, questa patologia nell'elenco delle patologie riconosciute e riconoscibili dal sistema sanitario nazionale e quindi regionale. Chiediamo agli organi competenti di fare chiarezza, di offrire alle regioni e soprattutto alla nostra regione, che già si era spinta oltre rispetto al perimetro che le è consentito, di poter dare una risposta vera alla presa in carico di questi pazienti, che affrontano per davvero percorsi importanti e complicati anche dal punto di vista dei costi delle terapie.